Piero Chiembriti è tornato a farsi vedere sul social dopo la guarigione e la morte dell'amatissima mamma. Il conduttore 63enne è stato infatti ricoverato per diverse settimane in ospedale a Torino, dove purtroppo a metà marzo è deceduta la madre Felicita, a cui era molto legato, che non è riuscita a sconfiggere il male che sta bloccando il mondo. Adesso, dopo le dimissioni dalla struttura sanitaria, Piero si trova a casa, dove sta pian piano recuperando le forze. Sul social ha pubblicato un selfie in cui appare solo il suo volto sdraiato sul letto, accanto all'immagine che Ambretti ha scritto, steso. La malattia e il lutto lo hanno profondamente segnato. Nei commenti tanti amici, anche famosi, gli augurano di riprendersi presto e gli danno sostegno in un momento così difficile. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!